Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, queste invece annunze abitano vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello che c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? E a questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto c'è una fuga di gas, io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non ne sentiamo tante le storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine. Eh, è quello che dico io, l'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112, noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh. Oh, aprite bene gli occhi, eh.